Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo. Nel corso di martedì persisterà l'azione di una vasta circolazione di bassa pressione sul comparto centro-meridionale dell'Europa che sospingerà nuove perturbazioni a tratti anche sull'Italia. Andiamo a vedere le temperature che saranno stazionari con clima tipicamente invernale sulla Russia mentre sulla versante occidentale del continente ci saranno correnti più umidi in arrivo dall'Atlantico. Andiamo a vedere che tempo ci aspetta sull'Italia sulla quale persistono correnti umidi occidentali responsabili di addensamenti e precipitazioni sparse più probabili tra Valpadana e versanti tirrenici. Per quanto riguarda le temperature minime queste risulteranno stazionarie così come le massime con valori decisamente più umidi all'estremo sud fino a 16-17 gradi. Al nord il cielo sarà molto nuvoloso coperto per gran parte della giornata con piogge sparse più probabili tra Liguria, Emilia Romagna e nord-est e fenomeni nevosi sulle Alpi orientali a partire dai 700-800 metri. Ci spostiamo ora al centro dove vedremo una maggiore nuvolosità soprattutto su Toscana e altro Lazio con il rischio di qualche debole pioggia mentre altrove prevarranno maggiori schiarite. E infine al sud condizioni di spiccata variabilità con temporanee schiarite alternate ad annuvolamenti anche consistenti associati a locali acquazzoni ed anche deboli nevicate sui rilevi calabro-lucani a partire dai 1300-1400 metri. Variabilità anche sulla Sardegna e in particolar modo sui versanti occidentali. Con questo è tutto, vi aspetto per aggiornamenti in tempo reale anche scaricando l'applicazione 3B Meteo su smartphone e tablet.